Nella casa del grande fratello VIP 2 tra l'ex tronista Luca Onestini e la modella di origini c'è che Ivana Marazzova sembra stia nascendo un forte feeling, si formerà una nuova coppia 25 novembre 2017 a Gigi, 25 novembre 2017, 23.18 Francesca Pasquale e Luca Onestini L'avvicinamento tra Luca Onestini e Ivana Marazzova piace molto al pubblico del grande fratello VIP secondo il quale l'ex tronista è riuscito a ben comprendere chi è davvero la modella cieca. Luca ha espresso cosa pensa di lei, e finalmente uno che ha capito che Ivana è una ragazza pura e sincera. Ivana rispetta la sua relazione e Luca anche gli porta rispetto. Se fosse stata una stratega si metteva con Luca le copie al GF sono sempre piaciute almeno quelle con un certo pudore, ma non è stato così. Ivana è splendida e merita la finale scrive uno spettatore che trova l'approvazione di molti. Nonostante è palese l'attrazione di Luca per Ivana, per il pubblico il ragazzo la rispetterà e non farà ulteriori avanza meno che non sarà a lei a volerlo. I due rimarranno quindi amici o nascerà un sentimento Anna Montesano e il pubblico li vorrebbe insieme avvicinamente sempre più importanti nella casa del grande fratello VIP 2 tra Luca Onestini e Ivana Marazzova. Ormai l'ex tronista di Uomini e Donne palesa il suo forte interesse per la modella cieca con complimenti di vario genere. Il pubblico che sta osservando il corteggiamento di Onestini sarebbe contento di vederli un giorni diventare una coppia. Sul web c'è infatti chi scrive a me piacerebbero come coppia, secondo me sono delle belle persone, basta vedere le amicizie che hanno riuscito ad instaurare così forti e ancora al di là che sia simpatica o no. Giulia Dell Ellis o Raffaello Tonon si vede che sia Luca che Ivana ci tengono a di loro rispettivi amici e secondo me hanno sentimenti veri a differenza del circo che c'è stato e per fortuna è andato fuori a fare i pagliacci da un'altra parte. Anna Montesano presto una coppia. Luca Onestini ha confessato a Ivana Marazzova di provare un interesse nei suoi confronti tessendo le sue doti. L'extronista di Uomini e Donne, infatti, considera Ivana una ragazza non solo bella ma anche leale, sincera e onesta al punto da considerarla la persona giusta da avere al suo fianco. Ivana ha accettato i complimenti di Luca ma è apparsa molto imbarazzata. Il fidanzato di Ivana, però, può stare tranquillo perché l'extronista non ha voglia di mettersi in mezzo e di creare confusione in Ivana. L'atteggiamento di Luca è stato particolarmente apprezzato dai fans del grande fratello VIP 2017 che lo considerano un gentiluomo e un ragazzo da altri tempi. Tra Ivana e Luca, dunque, è nata una splendida amicizia che piace davvero tanto ai fans. Dopo la coppia formata da Luca e Raffaello, anche quella formata da Onestini e Ivana ha conquistato tutti. Aggiornamento di Stella di Benedetto, i fans SHIPP ANOL e i coppia Luca Onestini e Ivana Marazzova sono amatissimi dai fans del grande fratello VIP 2017 che di entrambi apprezzano la lealtà, la sincerità e l'educazione. L'extronista di Uomini e Donne ha sempre avuto un atteggiamento rispettoso per i compagni, cercando aiutare chiunque. Ivana, invece, è una persona dolce, buona, leale e sincera oltre ad essere bellissima. Insieme formerebbero una coppia bellissima e i fans stanno sognando a pochi giorni dalla finale. A frenare gli entusiasmi di tutti, però, è lo stesso Luca che, durante una conversazione con Lorenzo Flaherty ha già dichiarato che, per rispetto nei confronti di Ivana e del suo fidanzato, non andrà mai oltre. L'ex, tronista, pure avendo confessato alla modella i suoi sentimenti, non ha alcuna intenzione di metterla in difficoltà. Tra Luca e Ivana, almeno per il momento, c'è solo una bellissima amicizia. In futuro, però, lontano dalle telecamere, potrebbero concedersi una possibilità nel momento in cui dovessero essere entrambi liberi Aggiornamento di Stella di Benedetto, i consigli di Lorenzo Flaherty Luca Onestini e Pazzo di Ivana Marazzova. L'ex, tronista di Uomini e Donne si è lasciato andare parlando con Lorenzo Flaherty. Nel giardino della casa del grande fratello VIP 2017, Luca ammette di avere scoperto una persona davvero speciale, che sia una bella ragazza non ci sono dubbi, ma io ho scoperto una persona pulita, Trasparente e leale sono cose importanti in questo ambiente, dichiara Luca a cui Lorenzo risponde così è la più grande scoperta di questo grande fratello VIP. E una persona speciale in un rapporto uomo-donna potrebbe dare davvero tanto con la sua sincerità e trasparenza. Come tipologia di persona cerco una persona come lei, dice Luca. Anche Lorenzo vede di buon occhio Ivana è una persona leale, tu sei leale quindi lancia l'amo. Luca, però, non ha alcuna intenzione di tuffarsi perché è impegnata. Flaherty, però, gli dice di provarci ugualmente e di tirarsi indietro solo qualora lei gli dicesse che è impegnata e non può andare avanti. Cosa farà, dunque, Onestini? Cliccate qui per vedere il video aggiornamento di Stella di Benedetto. Onestini innamorato della MRAZ o via la seconda edizione del Grande Fratello VIP è ormai in dirittura d'arrivo con tutti i concorrenti ancora rimasti in gara pronti ad affilare le loro armi per riuscire a mettere le mani sulla prestigiosa vittoria. Queste ultime battute sembrano però anche potenzialmente importanti per la nascita di un nuovo possibile amore in particolare quello tra l'ex tronista Luca Onestini e la modella di origini c'è che Ivana Marazzova. Nello specifico l'ex concorrente di Uomini e Donne nelle ultime ore si è dimostrato piuttosto vicino alla Marazzova rincuorandola dopo che Ignazio Moser le aveva fatto presente di avere qualche chilo in più rispetto all'inizio del Grande Fratello. Onestini immediatamente ci ha tenuto a rimarcare come il suo aspetto sia più attraente che mai ed anzi proprio questa maggiore rotondità la faccia diventare più bella ai suoi occhi. Apprezzamenti che lasciano poco spazio all'immaginazione nonché segnali evidenti di come la Marazzova Donestini piace moltissimo. UN Alessandro 500 unesimo troppo Luca Onestini sembra aver preso una sorta di cotta nei confronti di Ivana Marazzova come lo stesso concorrente del GF VIP ha confidato e confermato ai vari Lorenzo Flaherty e Raffaello Tonon. Tuttavia l'ex tronista ha anche manifestato disappunto per lo status sentimentale della modella rimarcando che nel caso fosse stata single certamente si sarebbe fatto avanti. Infatti, la Marazzova nel corso della propria esperienza all'interno della casa più spiata d'Italia, in diverse occasioni ha parlato del rapporto d'amore che la lega al proprio fidanzato Alessandro. Dunque è proprio la presenza di Alessandro nel cuore della bella Ivana a tenere a freno gli ardori di Luca Onestini che tra l'altro non perde occasione per farle dei complimenti come successo nelle ultime ore in cui ha evidenziato oltre a essere bella, che lo vedono tutti. La cosa più bella che hai è il può essere pulita, e io da uomo non sai quanto lo apprezzi, diritti d'autore riproduzione riservata. Potrebbe interessarti.